Sono poche le persone a cui io affiderei le mie tre figlie nel caso mi dovesse succedere qualche cosa. Una di queste persone, che sono veramente poche, si chiama Marcello Dell'Utri. E' una persona di straordinario livello e io metto la mano sul fuoco che lui non è mafioso e sono disposto a dire se è mafioso e mi portate le prove. Non il pentito, del pentito non ne voglio sentire parlare, le prove che lui ha utilizzato la mafia, che ha partecipato a qualcosa, che ne ha avuto un interesse. Vado in galera con lui se l'è arrestato. All'epoca ho immaginato, con una perversione sia fisiologica sia generazionale, che il più giovane di Pietro, maschio, sodomizza la Prima Repubblica in un'operazione violenta di presa del corpo della Prima Repubblica. E la Prima Repubblica, sodomizzata, resta incinta e da questo dissennato coniugio, questo accoppiamento perverso, esce Berlusconi. Berlusconi, figlio di Di Pietro e della Prima Repubblica. Quindi una persona più anziana di Di Pietro esce come figlio da questo rapporto anale di Di Pietro, che è una cosa schifosa da immaginare, ma è una cosa che io ho detto e ovviamente posso ripetere come prova, che Di Pietro come unico risultato ha ottenuto Berlusconi.